E cosa butti via? Non lo so, Andrea! Correrina? Perché no, Giovanni? Chi vincerà è la campionata, sono uscita a fare il raggiungimento della Champions. Ho restato? Ovviamente, Luis Masaru da lì, partite. Da quella di litorno cosa ti aspetta? Partiamo da qui per farti un'altra domanda a volte risposta. Limpi o Brandone? Brandone. Potete dire, Robby Maggio o Messi? Messi, no! Non credevo fosse così fuori su sé. Ciao ragazzi, seguitemi sempre!